Anche oggi le abbiamo provate, ma non dico tutte, ma... Siamo proprio di fronte a una bonaccia, guardate qua, madonna, il mare è assurdo eh! Guardate qua, guardate come cavo lavora il walking the dog, che la sia spina, però cool! Il mare, mare rosa, guarda, la cosa stupenda! Sto provando questa artificiale, la sia spin, un walking the dog, è abbastanza dimensionato, un 120, ma... non so, sto mare mi spiega questo a me! C'è qualcosa, ma... sì sì, qualcosa abbiamo preso, qualcosa abbiamo preso... Vediamo di che si tratta, no? Oh... Oh, fuori... Ascolto che vedo dai... Bah... Grazie a tutti. C'è una bassa, che più bassa non si può, c'è una nana, 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 eccola, eccola, regà. C'è una bassa, che più bassa non si può, c'è una bassa, che più bassa non si può, c'è una bassa. C'è una bassa, che più bassa non si può, c'è una bassa, che più bassa non si può, c'è una bassa. Ve la ricordate la guglia? Ve la ricordate la storia della guglia ragazzi? Io me la ricordo bene. La storia della guglia altro non è che è un riferimento al filmato Un lampo nella notte, scacco alla regina, il ventesimo episodio di questo canale, dove praticamente prima di prendere la regina, prendo una guglia e quindi la guglia in quel caso mi porta fortuna. E anche qui devo dire che mi porta fortuna, non subito ma due giorni dopo. prendo la regina, che avete visto nel filmato, la regina a guglia. Quindi per ben due volte la cattura della guglia è stata, come dire, foriera di fortuna, perché subito dopo mi ha consentito di catturare la regina. E allora, viva le aguglie! Ciao ragazzi!